carissimi pace buona giornata a tutti quanti voi dio vi benedica leggiamo l'evangelo di giovanni capitolo 17 i versi da 13 fino a 26 continua continuiamo scusate le nostre riflessioni sulla preghiera sacerdotale di gesù non possiamo come già detto la volta scorsa soffermarci su tutti i versi e guardiamo soltanto a qualche aspetto il resto sicuramente lo farà lo spirito santo se continueremo a meditare la scrittura gesù che era onnisciente sapeva bene quello che stava per accadere a lui anche perché era il motivo per cui era stato vandato e aveva preso un corpo di carne ma sapeva bene anche quello che sarebbe successo ai suoi discepoli e in generale a tutti coloro che nel corso della storia avrebbero deciso di seguirlo oggi si direbbe senza se e senza ma cioè di seguirlo in modo pieno totale senza riserve i suoi discepoli infatti nel corso della storia sono stati e sono tuttora perseguitati delle volte odiati maltrattati ingiuriati questa è la triste realtà che vivono i cristiani in generale certo alcuni in modo più marcato specialmente coloro che vivono in nazioni dove il cristianessimo viene rigettato e viene considerato come un'offesa non sono poche le nazioni del mondo dove ancora oggi ci sono cristiani carcerati e motivo della loro fede dove ci sono chiese incendiate dove ci sono uomini e donne uccisi a causa della loro testimonianza e della loro speranza in cristo gesù in altri casi certo la persecuzione forse è meno violenta o sicuramente lo è ma di sicuro come dice la scrittura chiunque vorrà seguire piamente il signore sarà perseguitato d'altronde gesù lo era stato e inevitabilmente coloro che avrebbero vissuto come lui ha vissuto sarebbero e saremo perseguitati perché questo perché il cristiano ama la parola di dio e amando la parola di dio ama la verità ama l'onestà ama la giustizia ama tutto ciò che è puro mentre il mondo è sottoposto all'influenza e al dominio del peccato e del maligno così insegna la scrittura e così vediamo tutti quanti noi e quindi nel mondo la verità non viene amata anzi viene rigettata si ama la menzogna si ama l'inganno si ama la disonestà si amano le furbizie regna l'invidia regna l'incoerenza è inevitabile che ci sia uno scontro e questo determina appunto una difficoltà per i cristiani ad essere accettati ma questo non ci deve spaventare né tantomeno ci deve far tremare le gambe anzi come dice la parola dobbiamo essere grati al signore se veniamo perseguitati a causa della nostra condotta giusta in un mondo che invece vive lontano dai canoni della parola di dio gesù lo dice chiaramente lo dice che i suoi discepoli sarebbero stati perseguitati ma prega per loro ed è importante sapere che nei momenti in cui i nemici della croce di cristo si accaniscono contro i credenti cristo prega per loro e intercede presso il trono della grazia di dio affinché la fede non venga meno anzi essa possa essere corroborata dalle persecuzioni e dalle difficoltà ed è importante anche che alla luce di questo si realizzi quello che gesù chiede al padre nel verso 21 cioè che siano uno dobbiamo in altre parole sentirci parte l'uno dell'altro e dobbiamo pregare intercedere l'uno per l'altro senza mai dimenticarci della chiesa che è perseguitata e attaccata anzi unendoci e stringendoci a quanti soffrono a motivo della loro fede affinché possono essere sostenuti in questo arduo combattimento dalle nostre preghiere signore ci aiuti ancora oggi come chiesa ad essere uniti qui non parliamo di ecumenismo sia chiaro ma parliamo di un rapporto di coesione tra coloro che sono stati lavati e purificati mediante il sangue prezioso di gesù cristo tra coloro che credono che gesù cristo è il figlio di dio ed è dio ed hanno realizzato la salvezza mediante la rigenerazione che viene dalla grazia che è stata sparsa su di noi per mezzo di cristo gesù questa unità è necessaria è qualcosa che anzi è raccomandata dalla parola di dio ed è bellissimo l'esempio che paolo porta nello scrivere sia ai romani che ai corinzi passi nei quali egli raffigura la chiesa un corpo e come nel corpo ci sono membra diverse che però lavorano insieme per uno stesso scopo così deve avvenire nella chiesa del signore abbiamo talenti diversi personalità diverse ma tutti dobbiamo remare nella stessa direzione l'ampiamento il progresso del regno di dio tutti dobbiamo adoperarci e sentirci impegnati tutti dobbiamo essere uniti nel chiedere al signore non solo che egli ci aiuti nei nostri problemi personali ma che egli sostenga la sua chiesa affinché possa rimanere colonna e sostegno della verità dobbiamo essere uniti nel pregare affinché lo spirito continui a soffiare e la chiesa del signore possa essere una chiesa dove la pentecoste continua a rinnovarsi dobbiamo pregare affinché l'opera di dio possa andare avanti accompagnata dai segni dai prodigi e dai miracoli che il signore ha promesso sì dobbiamo essere uniti in questo e certamente noi vedremo la gloria di dio ancora oggi manifestarsi signore il signore scusate pregò per la chiesa e pregò affinché potesse essere sostenuta nelle persecuzioni e potesse rimanere unita nel corso dei secoli e noi vogliamo fare nostra questa preghiera e ancora stamattina e tutti i giorni continuare a pregare per questo affinché anche in ciò possiamo essere imitatori di cristo gesù nostro signore che la pace di dio la sua grazia il suo amore il suo aiuto e la sua potenza siano con tutti quanti noi dio vi benedica cari la pace del signore sia con voi